Sono Pierluigi Ungania, amministratore unico di Aster, l'agenzia dell'Emilia-Romagna partecipata da tutti gli enti di ricerca, le università dell'Emilia-Romagna e soprattutto la regione e che in qualche modo è il traino motore di tutta l'innovazione e di tutta la ricerca e che è diventato partner di FBA. Essere questa sera a questo evento è per me un onore, un grandissimo piacere, questa location e soprattutto la presentazione della dall'Ara è stata particolarmente significativa perché nelle parole dell'ingegner Pontremoli abbiamo sentito un po' tutto il succo di quello che è l'importanza di un'azienda che nasce sicuramente da delle radici familiari e che poi attraverso sviluppo e innovazione, quello che Aster sta facendo e fa da anni per tutto il tessuto connettivo dell'Emilia-Romagna, ha sviluppato con una continuità, aprendo il proprio capitale a terzi e quindi in qualche modo creando i presupposti perché la collaborazione fra pubblico e privato, quindi fra la ricerca che il pubblico deve sviluppare come in tutti i paesi più avanzati dell'Occidente, in generale con cui noi ci interfacciamo e il privato può sviluppare nel miglior modo di collaborare e cercando quindi ulteriori opportunità di crescita per il nostro paese.